Si alzano le barriere per i passeggeri ipovedenti del trasporto pubblico piacentino. Da oltre un mese la segnaletica orizzontale nell'autostazione alla lupa è scolorita e di fatto inutilizzabile per le persone con perdita parziale della funzione visiva. Il problema riguarda i numeri delle corsie impressi sull'asfalto che erano realizzati con un alto contrasto tra la cifra nera e lo sfondo bianco per permetterne la piena fruibilità agli utenti con questa disabilità. A denunciarlo è Gregorio Contini, presidente provinciale dell'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti che conta circa 180 associati. In data 30 marzo, in seguito a numerose segnalazioni avute da nostri soci, abbiamo inviato una pecca seta pecca alla quale ad oggi non abbiamo avuto risposta. Ho provato nel frattempo a contattare telefonicamente l'azienda ma sono stato semplicemente rimbalzato da un ufficio all'altro senza riuscire a risolvere il problema. Il problema sarebbe di facile soluzione, si tratterebbe soltanto di andare a rifare i numeri a contrasto elevato, quindi di colore nero, sulle tabelle bianche. Seta fa sapere che il ripristino della corretta leggibilità dei numeri indicanti le corsie dei pullman alla lupa è già stato preso in carico e programmato da parte del Comune di Piacenza che interverrà entro breve.